Non è 5G l'impianto di via Luigi Monti? Confermiamo quello che abbiamo detto sugli altri impianti. L'impianto di via Luigi Monti non è 5G. La scia è stata presentata il 28 novembre 2019 e si tratta di una stazione radiobase per telefonia cellulare per tecnologia diversa dal 5G NR3700 MHz. Quindi hanno dichiarato Vincenzo Vinciulla e Sebastiano Moncada si tratta di fumo negli occhi per cercare di non rispondere a quelle che sono state le nostre considerazioni sugli impianti 5G installati nel comune di Siracusa. Farebbero bene gli assessori comunali prima di rispondere a documentarsi con la dovuta attenzione come facciamo noi che prima di parlare ci documentiamo attentamente su ciò che diciamo. Per quanto riguarda invece i luoghi dove sono state autorizzate le installazioni di impianti 5G confermiamo quanto abbiamo già detto aggiungendone due in più e in particolare Via della Madonna, la scia presentata in data 14 gennaio 2020 e parere positivo rilasciato il 3 febbraio. Contrada Fontane Bianche, scia presentata in data 14 gennaio 2020 e parere positiva in data 3 febbraio 2020. Via Columba 93, scia presentata in data 19 febbraio 2020 e parere positiva in data 12 marzo 2020. Via Le Scala Grega 181, scia presentata in data 5 marzo 2020 e parere positiva in data 27 marzo. Via Le Pibole 159, scia presentata in data 23 gennaio e parere negativo da parte dell'ARPA in data 13 febbraio 2020. Non vogliamo aggiungere null'altro per non continuare a infierire contro questa amministrazione comunale che predica male e poi, hanno incluso Vinciulla e Moncata, si dimentica di quello che dice e di conseguenza a razzo la male.